Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video Oggi siamo qui con un video commento allo showcase di Asob Qui a schermo potete vedere la panchina e il livello di PG Livello 84 E che dire signori, commentiamo questo grandissimo personaggio Asob secondo me è veramente un PG che nel meta si sta trovando veramente bene Anche io l'ho trovato contro spesso ed è veramente fastidioso Cioè per me è la versione molto migliorata di Sonic Ma davvero tanto, cioè fa veramente i suoi attacchi a distanza E che ti colpiscono preciso lo rendono veramente un PG fantastico a di poco Questa è la seconda skill a Roger Prima skill E poi c'è il recupero HP alla barba nera Che ce l'ha del 3% ma attivabile per ben due volte E che lo fa resistere in campo molto Davvero Cioè come personaggio è davvero davvero fantastico Ok Ah qua le ha prese da Odin Vabbè E tac preso da Odin Quindi a bandiera E via Questo Asob con un set di un flamingo low red E Lucy La nuova madre di Lucy E' veramente un top set da giocare per lui Così hai pure il recupero di HP quando cattoli una bandiera Ragazzi guarda fantastico Cioè lui si è messo a distanza E si sta sparando i colpi a manetta Wow 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 Veramente il PG fantastico davvero Adesso è andato dalla base dell'avversario Questo PG Cioè è veramente Cioè è Asob Cioè scappa Colpisce E ti colpisce in pieno Cioè non c'è modo di Di scamparla Prende la bandiera Ed ecco qua Una bandiera presa Ok Roger non può essere stannato Dalla seconda skill Ma comunque il danno Adesso lo becca Eh che cazzo Skill una Odin Cioè da notare come sta resistendo Tutti i tre i minuti Del match Cioè ragazzi Sto qui E' veramente fenomenale Fenomenale Sandy voleva fare Su Ma non c'è L'abbata Tac Odin Eh qua sta andando un po' male Gli ultimi 30 secondi Vediamo Se ce la fare In montare Ce la fa Ce la può fare Figliatelo Beccato in pieno Beccato in pieno Beccato in pieno Mamma mia ragazzi Un personaggio fenomenale Wow C'è Asop Assolutamente PG Bounty Festival Più che promosso Più che promosso Adesso Vedo se riuscirò A portarvi anche il video Commento A Frank Però dovrei riuscire Dovrei riuscire senza problemi Ci metterò un po' Però vabbè Prima partita MVP Davvero tantissima Tantissima roba Asop Bravo Bravo Bel PG Bel veramente Un bel personaggio Sai il fatto suo Sai veramente il fatto suo Poi vabbè Ovvio che Di norma In questo momento Del meta I PG rossi Hanno Hanno quella Rivelanza in più Perché insomma Per Per contrastare Questi Roger Re Oden È dura Prende la bandiera E si colpisce da lontano Come da prassi Seconda skill No qua Non ha beccato nessuno Capito voi ragazzi Cioè Per chi ha Asop Perché ha questo personaggio E non sa bene Come usarlo Mi raccomando Cercate sempre Di stare a una buona distanza In modo tale Da Andare a colpire Anche perché poi Con il fatto che I suoi colpi Vanno sempre a segno E seguono E rincorrono L'avversario Non è neanche difficile Secondo me farlo Skill 1 Tac Povero Mioc Povero Mioc Bene Sempre a distanza Anche se non fate I grandissimi danni All'avversario Va bene Cioè nel senso Questo personaggio È fatto apposta Per rompere le scatole In partita Per non dire altro Cioè è fatto apposta Regà È fatto apposta Uh Bello sto dodge Grande Grandissimo Top Veramente Vai Vai Usoppo 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 Dai che forse va a finire 5-0 Questo match Top raga Mi sa che è finita qua Vi ricordo di lasciare un like Iscrivervi al canale I link in descrizione Al gruppo E fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo personaggio Alla prossima Alla prossima Alla prossima